Buon anno a voi e buon anno musicalmente parlando sempre con Alberto Salaorni questa sera accompagnato da Benti. Buon anno. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie. Bravissimo, il Benti dà quel tocco, la musica, il sound e la bravura di Alberto Salaorni. Grazie per la visione. Alberto Salaorni e Benti. Un grande del sax, un brano un po' dispendioso dal punto di vista energetico, ci vogliono veramente due polmoni. Grazie per la visione. Buon anno ancora a tutti. Grazie per la visione. Grazie per la visione.